Alfreder 10.03, Planger 19 bis 400 e 19 bis 401, Mazziotti di Celso 26.10, 26.12, 26.15 e 26.17, Dell'Ai 28 bis 400 e 28 bis 401 e Catalano 32 quater 1. Avverto inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso sull'emendamento 18.16 delle Commissioni il prescritto parere che è in distribuzione. Passiamo quindi all'emendamento Caparini 9.400 a pagina 13 del fascicolo. Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Scuvera. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma noi riteniamo con questo provvedimento di aver messo in campo delle misure importanti per contrastare le frodi assicurative, peraltro tutelando anche i diritti degli assicurati, anche la privacy, tant'è che nell'articolo 8 abbiamo, come dire, col comma 5, provveduto abbondantemente a tutelare anche i diritti individuali e di dati personali, in coordinamento col codice dei dati personali dell'assicurato. Con l'articolo 9 mettiamo in campo ulteriori interventi e misure di contrasto delle misure assicurative. Per cui questo emendamento, il 9.400, francamente ci sembra pleonastico già rispetto alle finalità e alle misure introdotte nell'articolo 9. e invito proprio l'Onorevole Caparini a esaminare, diciamo, in profondità, approfonditamente anche le funzioni dell'IVAS, anche appunto la lettera B con riferimento all'uno quinques. Ecco, e quindi in particolare abbiamo anche aumentato le sanzioni. Quindi, quest'ulteriore aumento delle sanzioni a noi, francamente, sembra anche, come dire, non incentivante.